90 minuti di noia assoluta che lasciano il posto ad un finale di gara a dir poco incandescente. Il verdetto del campo recita infatti Cecchina Salvo e Foglianese condannato all'immediato ritorno in promozione, ma con il giallo legato al gol annullato all'ultimo minuto a Gian Felice che ha negato la salvezza alla squadra di Pascucci e che ha scatenato le furiose proteste e ospiti. Con 1-0-0 a cura di Vetralla si era chiusa la sfida di andata tra Foglianese e Cecchina. Risultato questo che favorirebbe la formazione di Pedini meglio piazzata in classifica in caso di risultato fotocopia in questa gara di ritorno. Ed a partire bene proprio il Cecchina che al terzo minuto va subito vicino al vantaggio. Maglitto se ne va bene, chiama l'1-2 Bernardi, solo davanti alla porta Maglitto, si lascia però ipnotizzare da Barloci che salva con i piedi. Molto bravo il giovane estremo difensore ospite a mettere subito una pezza, salvando tutto sulla conclusione del numero 11 bianco-rosso. Ma dopo il primo brivido l'incontro si blocca letteralmente, lasciando spazio ad una sfida soporifera e dominata dalla paura. Ma dopo il primo brivido l'incontro si blocca letteralmente, lasciando spazio ad una sfida soporifera e dominata solo dalla paura. Il Cecchina infatti si limita a controllare, cercando di non rischiare nulla, con la Foglianese in affanno e totalmente priva di idee, che fatica soltanto a farsi vedere dalle parti di Pividori. Si chiude dunque senza reti e senza emozioni la prima frazione di gioco, con la squadra di Pascucci costretta nella ripresa a fare qualcosa in più. Ma in realtà nel secondo tempo il canovaccio dell'incontro non cambia. La Foglianese cerca sia di aumentare i ritmi, ma cercando di apportare pericoli alla squadra di casa, solamente con conclusioni velleitarie e nettamente fuori bersaglio. Il Cecchina da par suo non sembra brillare più degli avversari, ma a Fabiani e compagni lo 0-0 sta bene come, e l'unica preoccupazione sta nel non lasciare spazio all'offensiva avversaria. Ma anzi l'unico pericolo è apportato dalla squadra di Peduzzi, con l'azione di rimessa di Pascucci che si invola verso la porta di Barloci, ma la conclusione del numero 10 è piuttosto fiacca. Il forcing alla ricerca della rete spetta però alla Foglianese, ma le sterili offensive ospiti non creano la minima preoccupazione alla retroguardia di casa. Ma è proprio nell'ultimo dei 5 minuti di recupero concessi dal signor Vona di Frosinone, che arriva all'episodio che segna l'incontro. Nell'ultimo disperato tentativo ospite, infatti, Mechilli riesce a mettere in mezzo per Gian Felice che anticipa Pividori e mette in rete, ma arriva il clamoroso fischio del signor Vona ad annullare il gol su segnalazione dell'assistente. Regolarissima appare dalle immagini la posizione del numero 7 bianconero. Decisione erronea dunque da parte del direttore di gara, che scatena le furiose proteste ospiti, con un capanello attorno all'arbitro nel quale volano anche spintoni emanate proprio all'indirizzo del fischietto Ciociaro. Finisce dunque nel caos più totale l'incontro che decide la salvezza del Cecchina, con la rabbia che di certo sarà difficile smartire invece per la Foglianese, che dovrà dunque fare il ritorno in promozione dopo una sola stagione disputata nel massimo campionato regionale. Grazie a tutti!